Tremate, tremate le mie recensioni ai fumetti delle Tartarughe Ninja sono tornate Oggi, finalmente, dopo un po' di tempo che non ne parlavo più Torniamo a parlare delle Tartarughe Ninja della IDW Con la ristampa, corretta dopo un errore appunto di stampa Del numero 59 Sagra E bentornati su Nomomamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja Ragazzi, qua c'è da un po' da riprendere il passo, c'è un po' da riprendere il ritmo E bisogna tornare a parlare in pompa magna delle Tartarughe Ninja In vista del film che uscirà ad agosto, Tartarughe Ninja Chaos Mutante Come vedete alle mie spalle, è finalmente arrivato in italiano anche The Last Ronin Che ora finalmente possiamo chiamare, col suo titolo italiano, L'Ultimo Ronin Che non, come si dice, non mancherò di recensire, di parlarne con voi Non l'ho ancora letto Leggo il numero 60 delle Tartarughe Ninja e poi farò la recensione anche di questo Oggi invece parlerò con voi del numero 59 Numero di cui dovevo già parlare, non lo so, un paio di mesi fa Adesso non ricordo Tant'è che però quando sono andato nella mia fumetteria di fiducia a ritirarlo Era già stato ritirato dalla Panini Per appunto per questo errore di stampa A cui molti di voi avevate fatto presente la casa editrice E di conseguenza hanno sistemato Io adesso non ricordo quale fosse l'errore di stampa Sta di fatto che la copia che io ho tra le mani è quella corretta Tartarughe Ninja numero 59 Sempre con la consulenza alla storia di Kevin Eastman Che è uno dei due creatori delle Tartarughe Ninja E Tom Waltz che è fondamentalmente l'autore che ha seguito le Tartarughe Ninja fino a due numeri fa Mentre la sceneggiatura e i disegni sono ad opera di Sophie Campbell Ho già parlato di Sophie Campbell nello scorso numero Sarà la nuova, mi viene da dire, showrunner della serie Perché sarà lei che si occuperà appunto del nuovo corso delle Tartarughe Ninja Sia per quanto riguarda appunto la storia che i disegni Sono molto entusiasta di vedere quello che farà Di questa città Non dico New York ma di questa città Mutant City Che fondamentalmente è molto simile, presumo, a quello che vedremo in Tartarughe Ninja Chaos Mutante Ovvero non solo le quattro tartarughe ninja che dovranno combattere nell'ombra Per proteggere i cittadini di New York dal clan del piede e da altri nemici Ma le tartarughe ninja che possono tra virgolette combattere allo scoperto Perché ormai i mutanti dopo la bomba che vecchio diavolo ha fatto esplodere al congresso di Baxter Stockman Ormai i mutanti sono conosciuti agli occhi della città Tant'è che li hanno relegati in un vero e proprio ghetto E mai come in questi numeri le tartarughe ninja possono parlare Di diversità, di accettazione, di rifiuto da parte della società verso il diverso Complice anche l'autrice stessa che sulla sua pelle presumo abbia vissuto tutte queste esperienze In quanto donna trans Ci può portare tutte queste emozioni anche sul fumetto E si sentono Io le ho già sentite nel numero 58 Mi era piaciuto un sacco Avevo fatto anche degli estratti che potete trovare su Instagram Qui continua diciamo su questa falsariga Però questo numero ci mostra un pochino di più Finalmente era anche ora Genica Finalmente dopo la sua trasformazione Che non so se è stata due o tre numeri fa L'avevamo vista pochissimo Questo numero è praticamente tutto incentrato su Genica Che è vero che io non sono un fan delle aggiunte Quindi non sono un fan di un nuovo ingrediente per rimescolare la minestra e renderla più saporita Però fondamentalmente se tu mi crei Genica Voglio che me la fai anche vedere Poi io potrò decidere se mi piace o no Ma se non me la mostri non sarà mai piaciuta Il numero inizia esattamente dove ci eravamo lasciati l'altra volta Ovvero con Sally Pride Che ha sviluppato per me una Come si dice Un mio fetish per i furri che prima non avevo Kitty Pride che abbandona tutti gli effetti I muto animali e volta le spalle a vecchio diavolo Che nonostante avesse fatto questo casino Creando dei mutanti in città Comunque non stava lavorando per loro Comunque li stava trattando come merce di scambio Per sfamare i mutanti presenti in Mutant Town Vendeva dei mutanti appena nati Cioè una roba orribile Da crimine contro l'umanità Se non fosse che appunto sono trattati tutti come animali qui dentro Facciamo anche una conoscenza Non dico più approfondita Ma quantomeno mescolata nel gruppo Di Mona Lisa Che è un personaggio che voi sapete L'abbiamo visto nei cartoni animati dell'87 È stato un Diciamo un interesse amoroso Se così si può chiamare Un interesse romantico di Raffaello Nei cartoni animati Qua invece penso che la strada sarà diversa Poi ne parliamo E soprattutto vediamo il rapporto di questi nuovi personaggi Con il gruppo originale Che in un certo senso si riunisce Si riunisce dopo il lutto Dopo la perdita del proprio padre Del proprio maestro Il maestro Splinter Che è morto un paio di numeri fa Nel numero scorso ci hanno mostrato Che erano passati dei mesi Dalla bomba di Mutantown Dalla morte di Splinter E la famiglia si era un po' disgregata Raffaello come sempre Ma anche gli altri Gli altri se ne stavano a Northampton E mentre Michelangelo è proprio caduto In una fase totale di depressione Leonardo non sapeva come gestire il tutto Donatello cercava come sempre A livello logico di rendersi utile Quando poi ha capito che non c'era posto per lui E' andato ad aiutare a Mutantown Ed è proprio Jennica In questo numero Che si tira sulle maniche E cerca di dare degli schiaffoni Al clan amato Alla famiglia di Splinter Per riunirli E' molto bello vedere le tartarughe ninja In questa veste Quindi non ufficiale Non da combattimento Ma con dei vestiti veri e propri Anche perché sono in un posto molto freddo E' bello un po' vedere I rapporti umani C'è un elemento che fa finalmente ridere Dopo tanto tempo le tartarughe ninja Ovvero il fatto che Il gattino di Michelangelo Che era diciamo Quello che io chiamavo il gattino Da pet therapy di Michelangelo Dato che appunto Era chiaramente in fase depressiva Si era smarrito ed è stato ritrovato Quindi un momento di felicità In questo lutto Gli ha fatti riunire Questa scena nel falò Ricorda molto La scena Del film degli anni 90 Dove si riuniscono attorno al fuoco Per cercare un contatto con Splinter Qua invece lo stanno commemorando E decidono appunto di commemorarlo Nel modo migliore Ovvero di aprire Un dojo Dentro Mutant Town E chiamarlo Non più il clan amato Perché il clan amato appunto E' parte E' la famiglia amato Quindi appunto Splinter E le tartarughe ninja In senso stretto Lo chiameranno Il clan Splinter Dove potranno Diciamo Far parte tutte le persone Che Che impareranno Le arti ninja Infatti aprono Un vero e proprio dojo Un vero e proprio corso Di autodifesa Per istruire I mutanti A autodifendersi C'è anche questa Quest'altra fantastica tavola Dove appunto Vanno tutti a un concerto Dove c'è chi si diverte Chi meno Onestamente pensavo Che Raffaello Si divertisse un po' di più Mentre Vabbè Scontato che Michelangelo Si scatena Scontato che Donatello Non si trova assolutamente bene E Leonardo Cerca di meditare In tutto questo casino Abbiamo anche La prima apparizione Di questa ragazza Che non ricordo Se si chiami Laila Comunque vabbè La vedremo La vedremo più avanti Questa Questa maialina qua La vedremo più avanti Dovrebbe diventare Un personaggio importante Come dicevo C'è Mona Lisa Dovrebbe essere È stato un interesse amoroso Per Raffaello Nei cartoni animati Qua invece vediamo Finalmente Sancito So che fa un po' strano Però vediamo Raffaello Finalmente Dare un bacio Ad Alopex Che dopo Mesi Anni Di questo Questo rapporto Particolare Che avevano Questa strana amicizia Romantica Che avevano E quindi per questo Vi dico Mona Lisa Sicuramente Non andrà Sicuramente Non tanto presto Non andrà con Raffaello E sti gran cazzi Perché onestamente A me Di Mona Lisa E Raffaello Insieme Non me ne frega niente Questa versione Di Mona Lisa Invece è un'ex Umana Laureata in fisica In tecnologia E potrebbe darsi Che magari Come si dice Instauri Un bel rapporto Con Donatello Sarebbe anche più probabile E francamente È una cosa Che preferirei vedere Piuttosto che Raffaello Che va Passa da Alopex A Mona Lisa Però chissà Chissà cosa ci riserverà Il futuro Quindi in un certo senso È anche un numero Di transizione Ma non è un numero Di transizione Perché vediamo Tantissime cose Non c'è un vero E proprio nemico Ma vediamo proprio Ricostruire la famiglia Delle tartarughe ninja In questo numero Viene presentato Un ultimo Un personaggio Molto importante Che è questa Piccolissima Tartaruga Albina Che viene trovata Tra appunto Tra i mutanti Giovani Piccolini Che vecchio diavolo Stava trafugando Appunto Con il clan del piede Non l'ho detto Stava trafugando Mutanti giovani Con il clan del piede In campo di viveri E viene chiamata Da Gennica Lita E giusto Nel finale Di questo numero Io pensavo Che sarebbe stata Una cosa Che avessimo visto Più avanti Giusto nel finale Di questo numero Vediamo Quella che palesemente È l'ita Del futuro Perché è una tartaruga Albina È abbastanza raro Con il nuovo simbolo Del clan Questo è Il nuovo simbolo Del clan Splinter Che viene Dal futuro Come lo so È cresciuta Ma soprattutto Perché ha Lo scettro Del tempo Che è quello Che abbiamo visto Anche nei vari Nei vari numeri passati Dove c'era La ragazza che viaggiava Nel tempo Che l'abbiamo vista Nella storia Dell'ADW L'abbiamo vista Nella storia originale Quella degli anni 80 L'abbiamo vista C'è stato anche Un accenno Allo scettro Del tempo In tartaruga ninja 3 E quindi Sappiamo Che c'è questa versione Questa mirai Abilita Come mirai trunks Che viene dal futuro Oltre alla storia principale Ci sono altre due storie Sempre dedicate a gennica Tra l'altro La seconda Mi ha ricordato Per i vari Per la fotografia Chiamiamola Per il colore Delle tavole Mi ha ricordato molto Spider Gwen Sia il fumetto Spider Gwen Ma anche La spider Gwen Che abbiamo visto In cross the spider verse Forse perché Gennica Ha un po' Quelle vibe Da spider Gwen Quindi è una versione alternativa Di una tartaruga ninja Ha una storia differente Dalle altre tartarughe Quindi non è Non è nata tartaruga È nata umana Suona Ama la musica rock Anche qua lo vediamo E esprime i suoi sentimenti Attraverso anche la musica Ed è molto Agguerrita Come Come ragazza È molto punk Da questo punto di vista Ci sono proprio Delle tavole Che Cambiano E diventano Ancora più pastello Rispetto Questa è Una tavola Tutta pastellosa Con i colori di Spider Gwen Come vedete Due tavole prima Della stessa storia Prima che entrasse Nel concerto Sono molto più Standard E qua si torna Un pochino Al rosa Ovviamente Questi potrebbero Benissimo essere I colori Delle luci Dentro la discoteca Però mi piace Proprio questo Cambio di Di fotografia A seconda Del momento Della storia È una storia Che scava Un pochino Nel passato Di Jennica Ci fa vedere Una storia Che non è la prima Volta che vediamo Quindi Un'ex ragazzaccia Che incontra Qualcuno Che ha fatto parte Del suo passato Che la riporta Mentalmente Per un secondo Allo Alla persona Che era La persona che era Si fa un pochino Infinocchiare Da questa persona Che viene dal suo passato Che non è mai cambiata In questi anni Mentre lei è cresciuta Molto E per poco Non finisce di nuovo Nei guai È questa classica storia Che abbiamo visto Ma è bello 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 Vederlo Anche In questo contesto È una side story E si parla Di una cura Per i mutanti Quindi mi viene da pensare Sicuramente Che sarà Una bufala Ovviamente C'è questo Tizio Che convince Quasi Jennica Che ci può essere Una cura Sottobanco Per le persone umane Che sono state mutate In mutanti Le prove Sono davvero Irrisorie Fanno vedere Un filmato Senza audio Potrebbe benissimo Essere un filmato Messo al rovescio Secondo me Andrà a finire così Però credo Che ci si attacchi Un pochino Alla speranza Di Jennica Di poter tornare umana Poi c'è un'ultimissima storia Davvero breve In cui mostrano Le origini di Jennica Quando era in prigione Sul fatto che ha conosciuto Un ratto Che gli ricorda Splinter Niente di che È una storia comunque Molto tenera Molto carina Per riempire Un pochino Il numero Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo numero Io l'ho adorato Soprattutto L'interazione Tra i fratelli Il fatto che Riaprano finalmente Un clan E siano tutti assieme Che abbiano Un dojo Che Che creino qualcosa Che coinvolga Anche altri È una cosa che mi è piaciuta Un sacco Ecco Forse L'unico aspetto Negativo Di questa parte Della storia Di Mutant Town È che manca un po' La componente umana Buona Io sono sempre stato Un fan delle tartarughe ninja Mi ricordo anche da piccolino Non avendo il giocattolo di April Non è che mi fregasse molto Della presenza di April Ma mi rendo conto Da adulto Che è una presenza Molto importante Perché se no Si vira troppo Sul fantastico Sul fantascientifico Mentre April ci tiene Un attimino È quella persona Che ci tiene un attimino Con i piedi Nella realtà E April si vede Davvero pochissimo Anche perché Non può entrare In Mutant Town Abbiamo O anche Casey Jones È la stessa cosa Qua abbiamo visto Casey Jones Per un secondo Al confine Con Mutant Town Ed è un po' Un peccato Perché si rischia Proprio di Vedere uno show Di pupazzoni Poi per carità Stiamo parlando di fumetti Quindi è tutto finto Non ci sono cose vere Cose non vere Però si rischia un po' Quell'effetto Muppet Show Che io avevo riscontrato Già in Tartaruga Ninja L'avventura continua O titolo originale Tartaruga Ninja Next Mutation Al di là che quello show Era proprio brutto A rivederlo adesso Con gli occhi da adulto Però c'era Già allora Quando ero piccolo Mi ricordo che Mi mancava Che ci fossero Degli umani buoni Mi mancava che c'era La totale assenza In spiegata di April Qui ovviamente è spiegata La vedremo più avanti Sta facendo altro Però ecco Sento un po' questa mancanza Spero che Verrà un pochino Ridimensionato Tutto il discorso Mutante Umano In futuro Grazie ancora Per avermi seguito Fino alla fine del video Io come sempre Vi ringrazio E con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto Vi dico Arrivederci al prossimo video Vi ricordo sempre Di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace Un non mi piace a questo video Anche a tutti gli altri Di condividere il video Con tutte le persone Che amano Le tartarughe ninja Di commentare qui sotto Con quello che viene parso Di questa storia E se avete aspettative Particolari Per il futuro Di questo clan Splinter Grazie ancora E arrivederci Grazie a tutti